buongiorno belli buongiorno e benvenuti ancora sul canale youtube di trippando oggi si va in sudafrica e ci si va con qui chissà come pronuncio ievande omotoso il suo libro si intitola la signora della porta accanto allora io vi faccio notare la copertina e vi faccio notare anche la quarta perché devo dire che questa copertina è molto accattivante almeno dal mio punto di vista è molto affascinante le edizioni sono 66th and second con una copertina di questo genere a me un libro piace di più lo devo dire ok si va in sudafrica e si va in un sudafrica visto dal punto di vista femminile non sudafrica sempre con l'apartheid in sottofondo e ci sono le protagoniste sono due donne come racconta una barzelletta una bianca e una nera e tutto il il libro tutto questo racconto che ha questa giovane nazione in sottofondo e tutto il colonialismo tutta la storia abbastanza recente di del sudafrica si barcamena tra queste due donne e due persone che si guardano male una un po più aperta disponibile all'altra l'altra continuano guardarla sempre male due vicine di casa la signora della porta accanto appunto che non potrebbero essere più diverse di così e da una bella storia una bella storia che si legge piacevolmente e che secondo me è molto interessante per per capire quanto le donne siano sempre in conflitto quanto l'universo femminile anziché solidarizzare e aiutarsi va sempre in conflitto e non molla perché pure da anziane tengono testa e sono impegnative e toste è una storia che vi farà sorridere devo dire e lo sfondo è molto è molto bello è quello di una realtà completamente diversa dalla nostra di un tempo diverso dal da quella attuale è un libro che vi consiglio molto sia che vogliate fare un viaggio in sudafrica ma anche una lettura estremamente piacevole una lettura femminile ripeto una lettura che secondo me dovrebbero fare gli uomini per capire meglio le donne e niente dal mio punto di vista è consigliatissimo ievande omotoso la signora della porta accanto 66th and second che poi è italianissima questa casentrice spero di pronunciarla bene io ho sempre problemi di pronuncia e cioè ho sempre problemi di pronuncia nel senso io la pronuncio come mi pare a me poi penso si dica sì ma non lo so appurerà vi dico quanto costa 16 ah guarda è pure carino qua la linguetta secondo me il senso estetico fa tanto e non è un caso in questo libro senso estetico perché perchè lo scoprirete perchè entrambe le signore sono due che a livello di estetica se ne internano parecchi con ciò io vi saluto vi do appuntamento alla prossima puntata al nuovo libro al nuovo viaggio se questo video vi è piaciuto lasciate il vostro mi piace il vostro commento e iniziate a seguire il canale ciao